Amici di Armitiro, quella di cui vi vogliamo parlare in questa occasione è un argomento estremamente complesso e che risulta obiettivamente difficile da comprendere per la maggior parte non solo degli appassionati ma anche degli operatori del settore e diventa anche molto difficile da spiegare per chi fa il nostro mestiere. Parliamo cioè della normativa vigente attualmente relativa ai caricatori, caricatori ovviamente per le armi da fuoco, corte lunghe eccetera eccetera. Perché è una normativa difficile? Per un motivo molto semplice cioè che sostanzialmente negli ultimi dieci anni ci sono state ben quattro differenti modifiche legislative. Cerchiamo di ripercorrerle in estrema sintesi. Fino al primo luglio 2011 cioè fino all'entrata in vigore del decreto legislativo 204 del 2010 e fino a quando vigeva il catalogo nazionale delle armi che è stato abrogato appunto alla fine del 2011. La questione dei caricatori era relativamente semplice nel senso che tutti i caricatori dovevano essere denunciati, ci voleva il porto d'armi per l'acquisto, gli armieri erano tenuti a rilasciare una dichiarazione di vendita analogamente a quanto facevano per le armi e la capacità numero di colpi ammesso massimo dei caricatori era quello specificato nella scheda del catalogo nazionale relativamente alla specifica arma. Con il decreto legislativo 204 del 2010 si è andato a semplificare questa norma asportando diciamo espungendo i caricatori dal novero delle parti fondamentali d'arma andando a intervenire sull'articolo 19 della legge 110 che era quello che veniva considerato diciamo come paradigma dell'elenco per quello che riguarda l'Italia del novelo delle parti fondamentali d'arma. Questo che cosa significa? Significa che in combinazione con l'abrogazione del catalogo nazionale è stato possibile acquistare i caricatori di libera vendita, non era più necessario, obbligatorio denunciarli né per le armerie avere alcuna formalità per la vendita e c'era la possibilità di acquistarli fondamentalmente con qualsiasi tipo di capacità. Nel momento in cui è stata affidata nel 2012 al Banco nazionale di prova la competenza relativa alla classificazione delle armi, il Banco nazionale di prova e in particolare l'allora direttore del Banco nazionale di prova hanno stabilito un criterio che potremmo definire equitativo per stabilire conformemente a uno specifico comma dell'articolo 2 della legge 110 che vi risparmiamo quale fosse da intendersi la capacità massima dei caricatori con particolare riferimento ai caricatori per le armi lunghe che potessero utilizzare calibri anche utilizzati a livello militare. Il Banco di prova considerando che normalmente i caricatori per le armi militari avevano una capacità e hanno tuttora una capacità di 30 colpi normalmente, anche se ovviamente ce ne sono anche di capacità superiore o anche inferiore, ma diciamo che il paradigma è il 30 colpi, aveva stabilito che il limite massimo per considerare ammissibili le richieste di classificazione delle armi fosse che per le armi lunghe c'era un limite di 29 colpi. Parliamo del 2012. con questa prassi, diciamo così, si è andati avanti fino all'anno immediatamente successivo, cioè il 2013. Nel 2013 è stato emanato, è entrato in vigore il decreto legislativo 121 del 2013 che ha stabilito un limite specifico per la capacità dei caricatori delle armi comuni da sparo, cioè all'epoca cinque colpi per le armi lunghe, 15 colpi per le armi corte. Per attenzione però le armi classificate sportive è stata prevista una specifica deroga, sempre dallo decreto legislativo 121, che diceva che, e dice tuttora, le armi sportive sostanzialmente possono superare questo limite e in tal caso il limite non è più quello dei cinque colpi o dei 15 colpi o addirittura dei 29 colpi, bensì è il limite stabilito dai regolamenti sportivi. Quindi il decreto legislativo 121 del 2013 ha sostanzialmente bypassato e mandato in pensione il criterio dei 29 colpi stabilito dal Banco Nazionale di prova. Il decreto legislativo, considerando che c'erano in vendita nelle armerie svariati modelli di armi che non erano classificate sportive ma che avevano caricatori di capacità superiore, ha dato un periodo finestra fondamentalmente di due anni. Quindi fino al 5 novembre 2015 era possibile acquistare e detenere armi non sportive con caricatori di capacità superiore a 5 colpi per armi lunghe, 15 colpi per le armi corte. Come se le cose non fossero già sufficientemente problematiche, ci ha pensato ulteriormente la legge antiterrorismo numero 43 del 2015, entrata in vigore il 21 aprile, la quale ha stabilito un obbligo nuovamente di denunciare i caricatori, non tutti però attenzione, solo quelli di capacità superiore al limite stabilito dal decreto 121 che aveva modificato la legge 110. Quindi sempre 5 colpi per le armi lunghe, 15 colpi per l'arma corte. Con questo sistema sostanzialmente si è andati avanti fino all'entrata in vigore del decreto legislativo 104 del 2018. nel quale è stato uniformato a livello europeo il limite di colpi nei caricatori, stabilendo che non fosse più per le armi non sportive, non fosse più 5 colpi per le armi lunghe, 15 colpi per le armi corte, bensì 10 colpi per le armi lunghe e 20 colpi per le armi corte. Conseguentemente è stato modificato l'articolo 38 del TULPS che a questo punto prevede la denuncia per i caricatori con questa capacità, quindi 10 colpi e 20 colpi e non più 5 e 15, e nello stesso tempo è stata prevista diciamo una categoria in ossequio alla categoria europea, che è la categoria delle armi A7, in funzione della quale chi detiene un'arma A7, che è un'arma nella quale, un'arma semiautomatica a percussione centrale, nella quale si è inserito un caricatore di capacità superiore a 10 colpi per l'arma lunghe o 20 colpi per l'arma corte, prevede l'obbligo di essere iscritti a un tiro a segno nazionale, a un campo di tiro affiliato al CONI o a una federazione di tiro del CONI. Lo stesso obbligo vige per chi detiene i singoli caricatori di capacità superiore al limite. Se a questo punto vi siete già persi per la strada, vi capiamo perfettamente. Cerchiamo quindi di riassumere sostanzialmente quello che è l'attuale situazione. Allora, giuridicamente il caricatore in questo momento non è considerato una parte fondamentale d'arma. Le armerie non sono tenute a iscrivere, annotare i loro caricatori sul registro delle operazioni giornaliere, né tantomeno i produttori sono obbligati ad avere specifiche licenze di polizia per la produzione e specifici registri per annotare le vendite. L'armeria non è quindi tenuta a rilasciare alcuna dichiarazione di vendita. Il proprietario del caricatore, cioè colui che lo acquista, l'utente finale, nel momento in cui il caricatore ha una capacità pari o inferiore a 10 colpi per l'arma lunga o 20 colpi per l'arma corta, lo acquista e lo può detenere senza alcuna formalità di polizia e non è neanche richiesto il porto d'armi per l'acquisto. Nel momento in cui l'acquirente acquista un caricatore di capacità superiore a 10 colpi per l'arma lunga, 20 colpi per l'arma corta, questo caricatore che acquista a partire dal 5 novembre 2015 in avanti deve necessariamente essere utilizzabile in almeno un'arma che sia classificata sportiva sul sito del banco di prova e deve essere denunciato entro 72 ore dall'acquisto. In più, se il caricatore appunto ha una capacità superiore, oltre a doverlo denunciare, deve anche essere iscritto a un tiro a segno nazionale, un poligono privato affiliato al CONI o una federazione di tiro del CONI. Questo in estrema sintesi. È chiaro che l'obbligo di iscrizione al tirassegno nazionale al campo di tiro affiliato al CONI o alla federazione del CONI riguarda solo chi ha acquistato e detiene caricatori di capacità superiore al limite a partire dall'entrata in vigore della direttiva europea, quindi a partire dal 13 giugno 2017. Tutti coloro i quali hanno acquistato e detengono caricatori di capacità superiore al limite per le armi sportive o anche per le armi non sportive, se queste ultime le avevano acquistate prima del 5 novembre 2015, non sono tenuti a essere iscritti a un tiro a segno nazionale, un campo di tiro o una federazione di tiro del CONI. Questi caricatori delle armi sportive, oltre a poter essere superiori al limite previsto dalla legge, quindi 10 colpi per le armi lunghe e 20 colpi per le armi corte, sono come limite massimo di capienza di colpi soggette esclusivamente a quello che prevedono i regolamenti sportivi delle relative federazioni. Quindi il famoso limite dei 29 colpi non è più vigente, se ne trova comunque traccia ancora sulle schede di classificazione del banco perché le schede di classificazione del banco fanno ancora riferimento al momento nel quale è stata proposta l'istanza. Quindi siccome molto spesso nel momento in cui è stata proposta l'istanza il limite dei 29 colpi che era stato previsto equitativamente dal direttore del banco di prova era vigente, allora la scheda riporterà il limite di 29 colpi. Ma se l'arma è classificata sportiva e conseguentemente è in categoria A7 nel momento in cui si installa sopra un caricatore di capacità superiore, la capacità del caricatore è quella prevista dal regolamento sportivo. Se il regolamento sportivo non prevede una capacità, il caricatore potrà essere di qualsiasi capacità. Se non ci avete capito niente vi capiamo perfettamente, è una normativa estremamente ingarbugliata in funzione del fatto che si sono andate a sovrapporre numerose diverse riforme normative che hanno reso estremamente confusa la normativa e di difficilissima applicazione anche per gli stessi operatori. Il tutto, attenzione, va sottolineato senza alcun contropartita in termini di sicurezza sociale. Cioè queste quattro normative, queste quattro riforme che si sono andate a succedere nel tempo non hanno assolutamente sortito nessun effetto in senso migliorativo o peggiorativo per la sicurezza dei cittadini. Questo è quanto. Si tratta di burocrazia allo Stato puro. Grazie a tutti.